Ciao, pov, adesso voglio trattare un argomento abbastanza serio, scusate un attimo, al zingaro devo di una cosa, si, compro tre appartamenti, si, eh, eh, si ma non puoi aspettare, devo parlare di una cosa importante, eh, 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 va bene, ti faccio sapere, ok, si si, ciao ciao, eh, bene dove eravamo, giusto, partiamo, buongiorno Lugno Benvenuti nella vostra prima lezione di corsia, no, 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 sta zitto, ti prego, vi spiego un pochino come funziona, Lugno, mi raccomando, perché poi vi metterò il voto Prima parola è semplicissima, amio, si dice, amio, ora tocca a te Sì, sì, e tu invece prova a dire questo Hai mai l'ho dato il sole Continuiamo con la prossima parola Alunna, si dice, alunna Dai, dai, già meglio, ti aspetto alla prossima lezione Porca troia, spero a mai più una buona giornata Alunna, si dice, alunna